Quinta vittoria nelle ultime 6 partite per la Dolomiti Energia che passa a Pesaro 77 a 62 e sale a 24 punti in classifica. Settima sconfitta nelle recenti 8 gare per la VL che rimane a quota 10 in graduatoria sull'ultimo gradino. Primo periodo senza strappi, a Satton risponde Micca 17 a 15 al decimo, gli ospiti prendono il sopravvento a rimbalzo, i marchigiani perdono diversi palloni 11 in 19 minuti, parziale di 28 a 10 e più 16 per l'Aquila, 27 a 43 all'intervallo. Nella ripresa Gomesch, Satton e Hug allungano per Trento, più 21 al venticinquesimo. La squadra di Buscaglia difende bene e viaggia con il 48% dal campo contro il 33% dei padroni di casa, 41 a 60 al trentesimo. In apertura di quarta frazione, Sillings permette alla Dolomiti Energia di toccare il più 22, poi ci pensa Schultz ad allargare ulteriormente la forbice, più 25 che si trasforma in più 28 al 34esimo. Il resto è Garbage Time, 46% al tiro e più 12 al rimbalzo per l'Aquila contro il 37% degli avversari, 17 con 7 su 12 da 2 per Schultz, 14 più 12 palloni catturati per Hug. Stesso scora con 7 su 9 dal campo per Satton, dall'altro lato 14 punti per Bertone, 12 per Micca, 10 altrettanti rimbalzi e 4 assist per Omogbo. Stesso scora con 7 su 8 dal campo per l'Aquila contro il 33% del 33% del 33% del 34% 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 del 35% del 34% del 34% del 34%.